Questo è il lucchetto della Encheo per nostra mountain bike, molto ben fatta, ha un peso abbastanza importante, pesa un chilo e 28, però di sicuro nessuno ci porta via la bici. Allora, come è fatto? Abbiamo due paio di chiavi, è fatto bello pesante, è rivestito in gomma, questa è la sicura dove si tiene questo lucchetto, che sarebbe questo. Tutta questa struttura va ovviamente fissata alla bicicletta, questo è il riduttore perché dipende dove vogliamo metterlo. Ok, viene fissato per bene. Allora, come si toglie per poter utilizzarlo? Va semplice, così non si muove, come potete vedere, non cade. Basta togliere questa levetta, disingastrare fuori, questo rimane fisso sulla bicicletta ovviamente. Qua abbiamo il marco dell'elencheo, questo è girevole, molto comodo. Allora, questo è fatto in pratica di quattro pezzi, quindi noi, come potete vedere, è un nito. Pezzi molto grossi, quindi nessuno li può tagliare facilmente. Noi semplicemente, noi semplicemente vediamo qui. Qui, adesso è chiuso. Se metto la chiave, giro, apro, inserisco, giro la chiave, ed è chiuso e nessuno ci lo può spostare. Noi, ovviamente, questo possiamo muovere come vogliamo, a comodità nostra, ovviamente, dove attacchiamo la bicicletta, quindi è molto buono, però qui non lo apre più nessuno, quindi molto buono, pesante. Per aprire, ovviamente, semplicemente, servono inserire chiave, girare e si apre di nuovo al suo gancetto e poi di nuovo lo riponiamo al posto suo, quindi molto semplice, funzionale e di ottima qualità, veramente buono.